Maxi operazione di polizia di stato e carabinieri nei quartieri di San Pietro Appatierno, Secondigliano e Scampia. Sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia sono state eseguite 51 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti. Tutti loro sono ritenuti affiliati al clan camorristico Lavanella Grassi. Pertanto sono gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi. Grazie per la visione!